Buonasera ragazzuoli, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, ciao Pantalono, Michele Mari, Teo, Ricky Rich e a tutti gli altri, benvenuti, ciao caro Mr. Tasso Passo, ciao Dario Franchina 99, benvenuti a tutti, come va? Ciao Ramdu, ciao Anafro Kiwi from Italy, che dice aspettavo questa live, aspettavi questa live? Mi sa che se l'aspettavano un po' tutti. Non si parla di Goen, caro Mr. Tasso Passo, ciao Lucy Van Pelt 89, ciao Lollo 308, siamo reduci da una bellissima live di ieri con Tommaso in Giappone, che mi ha veramente divertito e mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto davvero tanto. Abbonamento rinnovato, grazie mille Otaku Inside Group, grazie mille Francesco per aver rinnovato l'abbonamento per il terzo mese, si conferma capo clan anche nel nostro gruppo Telegram, e vi ricordo i vantaggi tra l'altro per chi si vuole abbonare, a parte che da questo mese, quindi da settembre, grazie all'iniziativa Subtember, ci sono dei vantaggi straordinari, quindi praticamente con i nuovi abbonamenti anche ricorrenti, si può avere un vantaggio o uno sconto fino al 30% sugli abbonamenti, se fate tipo l'abbonamento ricorrente dai 3 ai 6 mesi, sul sito di Twitch, e gli altri vantaggi sono nessuna pubblicità sulle live, il gruppo Telegram esclusivo nostro bellissimo, indiscutibilmente bellissimo, come vi diranno tutti gli abbonati, tra cui quelli che hanno partecipato al raduno di un paio di settimane fa, di cui trovate il vlog sul canale YouTube, delle live esclusive, anteprime di progetti in esclusiva, video in anteprima, emoticon esclusive, stemmi esclusivi, e tanta tanta amicizia tra di noi, perché abbiamo creato praticamente una bella familiola già in pochi mesi che sono su Twitch, sono davvero contento di questo, e il mio gruppo Telegram, da quello che vedo, è uno dei più attivi, nonostante non siamo in tantissimi, siamo uno dei più attivi, davvero, e ci confrontiamo, mi date una mano per i progetti su YouTube, per i progetti su Twitch, quindi vi ringrazio, grazie mille Francesco, e grazie a tutti voi che vi abbonate, che vi state abbonando, Tommaso Toppo, devo recuperare la live, guarda, è stata davvero fighissima, penso che in questi giorni, comunque, la butto anche su YouTube, se poi vuoi vederla lì, ha ragione Alexos, benvenuta Martitina, vai Michele, poi magari te la recuperi, ciao a Oxomox, benvenuto anche a te, ciao a Alexos, sì, sì, è abbastanza facile immaginare, comunque, di cosa si parla in questa live, insomma, un argomento un po' sulla bocca di tutti, in questo periodo, è una casa editrice abituata alle cappellate, diciamo, e non è la Goen, perché la Goen, nemmeno la considera una casa editrice, fondamentalmente, quindi, semplicemente, non è la Goen per questo motivo, anche cioè nel senso, non essendo neanche una casa editrice degna di questo nome, la Goen, non può essere nemmeno la peggior casa editrice, esatto, Dario, la Goen è una cappellata già solo che esiste, fin quando esisterà, ovviamente, dicevo prima dei sub, il link per abbonarsi è quello che trovate in chat, quindi, questo qui, tra l'altro è esatto pantalone, c'è la notizia che Jump Plus, l'applicazione della Shuesha, possa arrivare in Italia, e a quel punto, davvero, gli shonen della panini che usciranno, proprio, ne leggerei zero, quelli che uscirebbero da quel momento in poi, grazie mille, dottor Manhattan, per essere entrato nel clan, grazie mille del follow, e grazie mille del follow, anche a Anafricawa from, Anafric, ah, 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 Afro Kiwi from Italy, Kuzan 060, e Seth Vboy, ciao carissimo, Tommaso in Giappone, anche che ha fatto il follow ieri, e gli altri che non ho potuto ringraziare poi ieri durante la live, Biandante 7, Giovincello che ha fatto l'abbonamento, per il secondo mese, Andrei, Mastabe, Hiroshi 2466, Charlie 986, e il top modificato, e Monkey D Maurizio 1, ciao Hellifreak, ciao Shika 92, esatto, ciao Outdoor 258, tempo 2-3 anni, la Goen farà la fine della GP con la J-pop, sì, molto probabile, ciao Bruna 214, ciao, avrò più soldi per Tezu che Ushimi, esatto, pantalono, esattissimo, assolutamente sì, comunque è tanta roba se fanno già un plazzo in italiano, già per me con l'inglese non c'è davvero quasi nessun problema, in italiano ancora meglio, è vero Dario Franchina, ti devo un riscatto che hai fatto ieri, quindi, I got you Bokurawa Family, I like you Bokurawa Family, I got you Bokurawa Family, I like you Bokurawa Family, bravo Dario, ti sei ricordato, pensavo, speravo che te l'avessi dimenticata questa cosa, ora sono soddisfatto, se esce Jean Plus in italiano, dice Alexos, compro solo Shonen della Star e della J-Pop, esatto, sì, e purtroppo ragazzi, Planet Manga ti porta a queste cose, su Ebay già si vedono prezzi folli, dice Shika 92, esatto, lo so, ma io non do assolutamente torto a chi lo rivende, poi lo, se fossi riuscito ad accaparrarmene una copia, cosa che non è stata, nonostante io lo abbia prenotato il giorno stesso, in cui è uscita la notizia su Anteprima, dal mio fumettaro, probabilmente ne avrei preso un paio di copie, e l'avrei messo anch'io ad un prezzo più alto, ma questa è colpa della Panini, non di chi lo rivende, buongiorno Diane, buongiorno il sanguinario, sì esatto, mister Tazzo Pazzo, su Subito ne ho visti un paio a 150, sì che poi, secondo me, converrebbe addirittura aspettare ancora un po' e venderlo ancora di più, si parla di Panini Comics, esatto, ho sterminato l'impazzito, sto pregando che arrivi almeno una copia a fumetteria, perché in tal caso è mia, nella mia fumetteria non è arrivata nemmeno una copia, ma quello francese sarà limitato, perché se no lo prendo, no non è limitato a Lexus, anzi, questo è il link per acquistare la versione francese dell'artbook di Slam Dunk, ve la lascio qui in chat, e l'edizione francese costa 39 euro, quindi 10 euro meno di quella italiana, e uscirà credo a novembre, ottobre, novembre, e non è limitata, costa 10 euro meno, e la potete ordinare dal link che vi ho lasciato qui in chat, nella mia ne è arrivata una già prenotata, eh ma anch'io l'avevo prenotata Dario però, non è servita a niente, perché non è arrivata nemmeno una, addirittura, cioè, per farvi capire una cosa, vi faccio sentire un secondo, di un audio del mio fumettaro, che mi dice questo, vi dico solo questa, quello che mi ha detto il mio fumettaro, in tutto, a Star Shop, a Star Shop, non alla fumetteria di quartiere, sono arrivate tre copie, in tutto, a Star Shop, che è una delle più grandi, è una delle più grandi catene d'Italia, di fumetterie, forse è la più grande, tre copie, Buongiorno Blue Virus, sono riusciti a fare un artbook, più costoso dell'edizione giapponese, con annessa spedizione e tasse, esatto, esatto, porca di quella miseria, cioè, sono scandalosi, porca troia, sono veramente scandalosi, io non ho ben capito, perché hanno fatto solo 500 copie, non l'ha capito nessuno Ellie, anche perché, si tratta comunque, di un manga, vendutissimo, vendutissimo come, come Slam Dunk, cioè non è un manga di nicchia, che dice, vabbè ne faccio 500 copie, cioè, è uno tra i manga più, più venduti, più amati di sempre, è quello, è la cosa assurda, capito, e invece, loro, fanno queste cappellate, perché, perché, perché sono loro, ormai, ma di cosa ci stupiamo, questa ad esempio è l'edizione, giapponese, però, con le, con le, spedizioni e tutto, si va a pagare comunque, una cifra importante, credo, adesso controlliamo anche, praticamente, vediamo, Lollo dice, secondo me questa era la prima tiratura, ne faranno sicuramente un'altra, se no, è un suicidio editoriale, lo spero, lo spero, io ho già ordinato l'edizione francese, quindi, me la sbatto al cazzo, quella italiana, anche se la rifacessero, però, non è detto da nessuna parte, non, non hanno assolutamente, confermato da nessuna parte, che ci sarà una seconda tiratura, che poi, come se fosse, una giustificazione valida, quella per il prezzo di 50 euro, aver messo una fottuta cartolina, che gli sarà costata 6 centesimi, buongiorno, Luca Mitch 11, buongiorno, Chiri, ti ascolto tipo podcast, che sono al lavoro, grazie mille, ho seguito la live di ieri con Tommaso, veramente interessantissima, grazie, grazie davvero, secondo me pensavano, che con 500 copie, potevano fare, forse giustificare, gli 50 euro, beh sì, ma non ha senso, ti ripeto, se fosse stato un manga di nicchia, anche sì, cioè che ne so, se era un artbook di Deo Yamamoto, va bene, ok, chi lo compra, ma Slam Dunk, infatti abbiamo visto che, tutti gli ordini, il 90% degli ordini, non sono stati evasi, Slam Dunk è uno dei manga più amati di sempre, cioè, voglio proprio vedere cosa scriveranno, in un'eventuale post su Facebook, che secondo me non faranno nemmeno, useranno la scusa della carta più verde di nuovo, guarda, secondo me non lo fanno nemmeno, l'Alexus, ciao Labix72ot, tra l'altro, ai miei abbonati, ho mandato un'email, qui su, cioè un messaggio privato, qui su Twitch, per chiedervi di, confermarmi, il vostro nome e cognome, il nick di Telegram, e il nick di Twitch, se potete rispondermi, perché sto, cercando di fare un database, dei miei sub, ovviamente utile, ad organizzarci, per tutto quello che faremo, ora verrebbe a costare di più, su CDG Pencil, perché hanno sospeso, le spedizioni economiche con le post, vediamo un attimo, per esempio, qui c'è, lo Shipping Charge Calculator, cioè per calcolare, la spedizione, allora, 3600 yen, sarebbero 33 dollari, quindi sarebbe, assolutamente, ottimo, perché verrebbe tipo 30 euro, con, con il cambio attuale, anzi, forse c'è anche in euro, verrebbe anzi, 28 euro e 53, quindi ancora meno, però, le spedizioni per l'Italia, sono queste, quindi, sono minimo, la spedizione più economica, con DHL, 23 euro, quindi in totale, viene, 40, più di 50, vabbè, questo potrebbe essere anche, alla fine, ci potrebbe stare, 51, 52 euro, però, l'edizione francese, viene 40 euro, perché alla fine, comunque, l'unica differenza, è, una paginetta, mi sembra, alla fine, una paginetta di testo, che, che, dovrebbe essere, anche in inglese, in quella giapponese, addirittura, però, anche in francese, una, una pagina, a parte che io, dovrei capirla, tranquillamente, ma poi uno, se la traduce facilmente, una pagina sola, chi se ne frega, si si si, lo so che c'è, ha scritto, ne ha legato alla prima edizione, una cartolina speciale, eccetera, eccetera, però da nessuna parte, non ha detto che faranno, una seconda edizione, la panini sta facendo, veramente cappelle, una dietro l'altra, esatto, Ricky Rich, sterminatore pazzo, anche la mia ragazza, conosce slam dunk, esatto, capito, cioè, slam dunk, lo conoscono, veramente tutti, no, l'edizione francese, non è della panini francese, ma è della cana, quindi, è una casa editrice, abbastanza seria, ha fatto delle cappellate, anche lei, per quanto riguarda l'home video, soprattutto, con delle famose, dei famosi doppiaggi assurdi, che trovate anche su ebay, però, almeno su questo, diciamo che è stata abbastanza seria, Sì, infatti, sono disponibili i corrieri, con DHL, però, 23 euro di spedizione, poi, non so, più che altro, se da queste 23 euro di spedizione, che farebbero arrivare, l'artbook da CD Japan, sui 53, 54 euro, non so se poi, potrebbero essere aggiunte, potrebbero essere aggiunti, i soldi della dogana, e a quel punto, potrebbero essere altri 20 euro, e quello è il problema, ciao Magnum One, sì, sto guardando su CD Japan, controlliamo su Mandarake, oh, Mr. Tazzo Passo, grazie, si è abbonato per tre mesi, grazie mille caro, ma hai fatto l'abbonamento ricorrente? Giusto per saperlo, per vedere, se il messaggio che mi dice qui in chat, è diverso rispetto agli altri, grande tazzone, grazie mille, Alvise, grazie caro, vediamo anche su Mandarake, aspetta, quanto ce l'ho già qui, allora, Slam Dunk, Illustration, ma cos'è sta merda? no, aspetta, ma non c'è nessun Mandarake, possibile, non è che lo devo scrivere in giapponese, no, non credo, aspetta, e perché non me lo trova su Mandarake? weh, sommo buta, ciao carissimo, esatto, come dice anche Angelo, sono tre righe in croce, come tra l'altro vedete anche nel video che ha fatto Michele Mari sul suo canale, sono proprio tre righe in croce di testo, quindi via con l'edizione francese e daie, come dice anche sommo buta, assolutamente, come mai gli artbook in Italia sono sempre così in secondo piano, secondo te, mi vengono subito in mente quelli di Letter B e Mushishi, che sono eccezionali ma inediti, probabilmente anche grazie a questa politica di Planet Manga, che ha sempre fatto un po' cagare, ha sempre fatto edizioni molto limitate, molto care, edizione francese tutta la vita, bravo Lollo, Ellie dice, sì, se non sbaglio c'è solo l'ultima pagina con un messaggio di Inoue, a sto punto faccio un pensiero anch'io per l'edizione francese, che è questa qui in chat, assolutamente, io l'ho già preordinata, se mi arrivasse, ma non mi arriva, perché me l'ha già detto il mio fumettaro, la venderei a mille 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 euro, quella italiana, Sugimoto, io sono uno di quelli che aveva ordinato l'artbook, risultato, nella mia fumetteria, ne arriverà solo una copia, e mi dovranno rimborsare, pensate a cioè, a tutte le persone che le fumetterie dovranno rimborsare, che magari avevano già pagato in anticipo, che avevano lasciato degli acconti, è assurdo, proviamo a cercarlo in giapponese, e vediamo se c'è, su mandarache, che si è bloccato, Shika92 dice, questa è la giustificazione della Planet, l'edizione è perfettamente identica a quella giapponese, ma con le traduzioni in italiano dei testi, abbiamo impiegato gli stessi materiali di stampa, dell'originale, e la produzione è avvenuta in Giappone, volume che prevedono una lavorazione così particolare, e vengono prodotti di norma in tiratura limitata, ma, 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 ora mi si è proprio bloccato, sto cercando, lo stavo cercando in giapponese, ma non va, mi si è bloccato tutto, o è solo quella pagina, no, solo quella pagina, no, Slam Dunk Artbook non me lo dà, ho provato a mettere Slam Dunk, e mi dà solo, delle specie di Dojinshi, è possibile che non c'è su mandarache, Categoria Books, oh, eccolo, 3000 Yen, ok, e che cazzo, allora, eccolo, mettiamo in euro, allora, anche qui, è 3000 Yen, quindi 23 euro, però, come si fa a vedere un attimo, la spedizione, ah, no, eh, mi dovrebbe far fare il login, ma non sono registrato, comunque, sì, anche qui viene 23 euro, pensate, da 23 euro a 50 euro, la differenza che c'è, e, aspetta, vediamo, alle Shop Information, se c'è scritto la spedizione, ah, 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 no, ma queste sono le, qui non c'è la spedizione, ma sono quelli dei negozi, quindi, quindi, shipping, per vedere la spedizione, dove cavolo è, auto order, shipping options, ma è qui uguale, mi dice DHL Express, quindi, immagino che sia lo stesso, vedete, Italia, 1870 yen, quindi, è uguale a quell'altro, la spedizione viene una ventina di euro, anche qui, quindi, alla fine, si paga uguale che, su CD Japan, praticamente, è per forza, Frax 93, la mia se ne ha fatto dare 25 euro, per ordinarli, dovrà rimborsare, tre persone su quattro, sì, la cosiddetta cartolina esclusiva, esattamente, in realtà, è anche nell'edizione giapponese, regolare, qualcuno sa dirmi, perché sono arrivate, due autorizzazioni di pagamento, datici su Paypal, è Mr. Tazzafazzo, probabilmente, perché c'è lo sconto, quindi, una è da 3,99 euro, e quell'altra da 1 euro, per quello c'è, perché c'è lo sconto, e quindi, una è da 1 euro, ma se quella italiana, è uguale a quella francese, perché il prezzo cambia? Quella francese, probabilmente, è brossurata, e non cartonata, da quello che ho capito, però, a me, interessa pochissimo, sinceramente, la cosa, Mr. Tazzafazzo, ha riscattato, canto Boku Rawa Family, I got you, Boku Rawa Family, I like you, Boku Rawa Family, I like you, Boku Rawa Family, papapapapaparararara, papapapapararara, papapapapararara, piu, eh, ora che si è abbonato, Mr. Tazzo Pazzo, fai il gradasso, mi dice, dai, fai qualcosa, e l'ho letto ora, consigli l'edizione inglese, deluxe, di 20th century boys, Ackresse, scusa, l'edizione inglese, deluxe, non l'ho avuta sotto mano, quindi non ti saprei dire proprio esattamente però sicuramente è meglio dell'edizione normale italiana che ho io ciao Zef re di vivo anche Zef come stai caro l'importante sono i disegni esatto anche perché c'è una mezza pagina di testo quindi c'è un personaggio che parla in slang americano si quindi se stai bene l'inglese dice Alexis può effettivamente essere buona quella inglese vi ricordo a tutti quelli che sono entrati adesso anche se volete sostenere il canale con un bel sub avrete questi vantaggi nessuna pubblicità l'accesso al nostro gruppo telegram esclusivo dove facciamo anche dei viaggi insieme raduni come avete visto nel blog sul mio canale youtube delle live esclusive anteprime di miei progetti di miei video video in anteprima poi scegliamo insieme anche dei video anche le live emoticon esclusive stemmi esclusivi e arriverà sempre più roba se poi volete potete fare anche una piccola donazione come quelle che passano qui sotto in basso e ci sono da oggi da ieri in realtà per tutto il mese di settembre anche degli sconti con il subtember che è questo mese dedicato ai sub da parte di twitch con i nuovi abbonamenti ricorrenti che quindi potete fare come ha fatto il nostro mister tazzo pazzo in realtà non mi ha detto ancora se hai fatto l'abbonamento ricorrente ma credo di sì da come mi è venuto scritto però confermamelo mister tazzo pazzo c'è il 20% di sconto sul primo mese dei nuovi abbonamenti ricorrenti di un mese 25% di sconto sui primi tre mesi sui nuovi abbonamenti ricorrenti di tre mesi e il 30% di sconto sui primi sei mesi con il nuovo abbonamento ricorrente di sei mesi quindi davvero ottimo davvero ottimo questo se andate su twitch su twitch nella pagina dei sub potete vedere tutto comunque per bene per bene stupenda la versione inglese comoda da leggere con copertine stupende con il nuovo finale preferito da Urasawa dice Magnum One tutto bene leggo come un pazzo in questa ultima settimana di ferie bravo Zef bravo 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 e adesso voglio farvi leggere anche una comunicazione di una fumetteria qui della mia zona di Prato sempre a proposito di questo artbook artbook ve la sposto un po' forse è meglio rimpicciolirla allora che dice questo allora ieri abbiamo scritto a Panini Comics Italia questa lettera e oggi dopo averci riflettuto abbiamo deciso di renderla pubblica a voi le conclusioni Prato 28.8.2020 era a metà giugno quando a Mondi Paralleli arrivò il catalogo delle novità Panini Comics anteprima 346 a pagina 118 veniva presentato il nuovo illustration book di Slam Dunk dopo più di 20 anni dall'uscita del primo che io ho tra l'altro come tutti gli artbook di Slam Dunk subito ci mettemmo a lavorare sulla promozione di questo bel volume annunciato inspiegabilmente in tiratura limitata di 500 copie e questo annunciato inspiegabilmente lo dice una fumetteria quindi non un utente qualsiasi accettando il preordine dei nostri clienti specificammo la tiratura limitata del tomo ma avendo inviato l'ordine immediatamente il 16 giugno ero abbastanza tranquillo all'idea di poter soddisfare le richieste che in pochissimi giorni ci erano arrivate trattandosi chiaramente di un artbook di Slam Dunk che è uno dei manga più amati di sempre oggi 28 agosto apro il negozio vado a verificare il deposito sul sito del distributore Pan Distribuzione e vedo meno di un terzo del mio ordine chiamo per sapere come mai visto che l'ordine era stato inviato tempestivamente e mi viene risposto che era stata specificata la natura limitata del volume le comiche per niente soddisfatto della risposta e quasi con le lacrime agli occhi per la rabbia chiedo quale sia stato il criterio di assegnazione delle copie e chiaramente non mi viene risposto se non con un laconico sapevi che era una tiratura limitata Roberto perché anche nelle risposte loro fanno cagare capite? chiaramente non è l'unica fumetteria che si è lamentata e sono lamentati tutti in conclusione martedì prossimo dovrò comunicare a oltre la metà di chi mi aveva preordinato questo prodotto che non lo avrà mai dovrò restituire acconti e probabilmente non rivedrò mai più questi potenziali clienti subendo un danno d'immagine che mi ci vorranno mesi per cancellare perché chiaramente il cliente poi nel 90% dei casi non è come noi che stai dietro le quinte lui va in fumetteria se il fumettaro gli annulla un ordine lui può pensare che sia un problema del fumettaro ovviamente purtroppo l'editore Panini Comics dalla metà dello scorso anno sembra aver deciso di aggredire il mercato scegliendo la strada del monopolio e della prepotenza aumentando indiscriminatamente prezzi di copertina ricordiamo gli ultimi casi di Akira e Lonwolf e Cab a 22 euro l'uno a volume e abbassando la qualità degli albi millantando invece il contrario di sicuro non sarà l'artbook di Slam Dunk a mandarci in rovina ma dopo questa mossa mi pare veramente inutile continuare a perdere tempo prezioso nel promuovere i prodotti di questo editore che non si cura più della soddisfazione reale dei lettori questo da anni ma insegue una minoranza di acquirenti collezionisti e speculatori che magari non aprono nemmeno un albo per poterlo poi rivendere poco dopo a prezzo maggiorato e sono totalmente d'accordo io ce la farei la speculazione ma sono un lettore quindi io ne avrei preso uno per me e uno per rivenderlo mondi paralleli se la tendenza rimarrà questa d'ora in avanti si concentrerà su quei tanti editori minori che cercano con passione e cura di portare in fumetteria opere che possono appassionare i lettori pensando anche al loro portafoglio e non solo a ingolfare il mercato regolare e ad alimentare la speculazione dei siti di aste online scrivo queste parole col grande rammarico nel vedere un editore che negli anni passati si è distinto per scelte vincenti e che ha portato in Italia per primo autori immensi come Taniguchi Inoue Miura e tanti altri ridursi ad autoboicottarsi perché è questo che state facendo secondo me Roberto Mannelli cotitolare di Mondi Paralleli che dire ha totalmente ragione cioè nel senso è ovvio che ha totalmente ragione c'è poco da dire ciao Riro secondo me l'hanno fatto a 50 perché hanno fatto la copertina con il tessuto del pallone da basket magari no non lo so magari è quello però anche l'edizione giapponese ce l'ha eppure costa 23 euro e ce l'ha anche l'edizione francese credo io il primo l'ho preso a Parigi in lingua giapponese a 35 euro 35 euro è un prezzo onesto sì assolutamente ci sta ti rispondono come se fossi tu nel torto esatto grazie mille Mario Luggero per essere entrato nel clan grazie per il follow sono assurdi esatto 22 euro a volume mi prosciuga tutto il portafoglio l'inladoc esatto torto o no è oltre ogni decenza rispondere così sto fumettaro mi sta già stra simpatico io lo compro solo perché lo aspettavo da una vita ah se lo trovi sì assolutamente lo ha chiamato per nome quanto puoi essere sfacciato e arrogante sì sono anche arroganti mi sa che prendo quella francese e tanti saluti bravissimo Zef che tra l'altro è questa se prendete da questo link in chat mi date anche una piccola mano una piccola percentuale io lo prenderei se solo sapessi il francese guarda l'in ci sono tipo di testo ci sono quattro righe credo in tutto il volume non c'è nessun bisogno di sapere il francese è un artbook ci saranno quattro righe a malapena di testo anche l'immortale costa un rene a volume esattamente con tavole tagliate traduzioni non rivedute e non corrette rispetto alla versione precedente dove ci sono le stesse gli stessi errori dell'edizione precedente dell'immortale che costa 15 euro per quell'edizione tipo tascabile l'edizione dell'immortale nuova entra quasi nei taschini piccoli dei jeans quelli sotto alle tasche normali praticamente sembra tipo la l'edizione in miniatura della collezione di osamutezuka sapete che c'è un'edizione della sua collezione tipo in miniatura da casa delle bambole ecco l'edizione dell'immortale sembra così se l'avessero fatta un centimetro più piccola ci voleva il il cazzo di telescopio per leggerla ha ragione al 100% non poteva usare parole migliori dice ellifrick sapete che vi dico dice anafro kiwi from italy prendetelo in francese mettetemi il testo su telegram e ve lo rimando tradotto ma esatto ma tra l'altro cioè per tradurre una pagina dal francese con 5-6 righe non ci vuole veramente niente cioè è una cosa che si potrebbe fare tranquillamente anche dal giapponese quello panini sarà copertina rigida o flessibile credo che sia cartonato quello panini e da quello che ho capito quello francese invece è brossurato però a me non cambia assolutamente nulla no ma infatti infatti non c'è niente da leggere assolutamente più che altro dice blue virus il fumettario è un cliente di panini mai penserei di rispondere così ad un cliente ma se boicottiamo tutti la panini nel senso che non compriamo più niente da lei esatto purtroppo il problema è che hanno veramente tantissime cose valide tipo sono l'editore di Urasawa per dirne uno però intanto se veramente come è nell'aria la notizia manga plus diventa anche in italiano io tutti gli shonen di jump che arrivano da panini smetterò di comprarli intanto quelli che sono il core poi quindi sarebbe una bella botta e comincio a leggerli solo su manga plus pantalono dice io per comprare un volume di akira devo smettere di comprare tutto per un mese e tra l'altro loro puntano ovviamente a far comprare la loro roba prima di tutti gli altri editori alimentando anche un mercato disonesto facendo esaurire tutto entro di solito un mese due mesi al massimo qualsiasi cosa mi ricordo Beastars era esaurito dopo un mese l'edizione dell'immortale è oscena esatto soprattutto per quel prezzo sì Dario io ormai finisco le serie in corso e poi non comincio più nulla di panini dice Zef Moccia l'ha ricevuto in Giappo e sfogliandolo non c'era niente da leggere a parte una pagina esatto l'ultima pagina c'è una postfazione di Inoue semplicemente di poche righe che comunque dal francese la traduciamo tranquillamente non è un problema la possiamo anche tradurre la traduciamo qualcuno me la manda su Telegram o la traduco direttamente io e poi ve la butto sia su Instagram che su Facebook da tutte le parti per quelli che la vorranno prendere in francese quindi non c'è problema buonasera Illumikatsura io ultimamente sto comprando solo titoli J-pop della Panini Zero infatti l'edizione dell'Immortale io la ripongo comodamente dietro alla cover del telefono così se voglio leggerlo in giro lo posso trasportare comodamente J-pop migliore editore assolutamente sì al momento sono d'accordo crescio scusa Race of Rage di problemi nel tradurre quelle due scritte non ce ne sono visto che con l'app di Google traduttore basta anche solo inquadrare la scritta che te la traduce esattamente Kirion alla fine penso di prendere visione d'inferno con le offerte una Dainet mi consiglia altri due titoli showcase sì allora vediamo il bambino di Dio e sotto un cielo di Collant io mi sa che evito già l'acquisto di Spikes Family eh io quello lo volevo prendere per esempio vedi però se c'era Manga Plus in italiano sarebbe già stato comunque da non prendere io solo per Urasawa seguo ancora Panini per recuperare i titoli vecchi che avevo in lista da un po' fortunatamente Akira l'ho recuperato un po' di anni fa se non fosse per tasse varie e import avrei abbandonato la casa di Ticci da tempo Spiros dice mi pento di aver acquistato i primi 3 della nuova edizione di Silem Dunk Beastars restampa costa 7,50€ un furto esatto buongiorno Emilio0198 esatto le ristampe a prezzo maggiorato Beastars da 7,50€ unica casa editrice italiana che fa le ristampe a prezzo maggiorato se fanno un annuncio ufficiale mi sa che svendo Fireforce il bambino di Dio non si trova più almeno su Amazon ah no mi sembra strano che sia andata esaurita è un manga super di nicchia premettendo che sono intenzionato a finire la fenice mi consigli di recuperare anche Kimba o non aggiunge nulla alla poetica di Tezuka avendo letto la fenice ma allora la fenice è tutta un'altra cosa Kimba però è un bel manga sicuramente con tanti temi ecologici e tutto anche umanistici se ti va recuperati il mio video della serie una vita a fumetti dove parlo anche di Kimba è sul canale YouTube a proposito di Spikes Family sarei curiosa di sapere il perché dei 1490 della Early Access è esatto anche io e anche io da Sdyuk su ebay ci ho preso tante cose c'è scritto più gadget ma non si sa cosa sono parlando di Jpop aspetto una ristampa di Bud di Tezuka si arriverà anche quella Lin a che punto sta con Vagabond di Nuo e boh a saperlo ciao monchedy Maurizio 1 benvenuto leggiamo anche qualche commento Paolo Massagli che è un fumettista della scuderia Allopress dice concordo su tutto quello che hai detto un abbraccio ma che tristezza Maurizio tocca fondi ci sono io semplicemente scandaloso una ragazza gli fa se non arriva depennami pure in favore di altri mi dispiace per questa situazione sono dei mentecatti e lui ciao Letizia purtroppo non ho nemmeno bisogno di depennarti tu sei già oltre la disponibilità non si può certo dire un comportamento professionale quello di Panini hai assolutamente ragione ma che tristezza Roberto cose degne del peggiore editore di tempo fa concordo con voi forse una politica commerciale di questo tipo potrà creare un immediato valore aggiunto all'editore cioè soldi ma sicuramente ne subiranno un bel danno di immagine quello che spero e in questo momento storico è purtroppo l'immagine che crea valore che tristezza sempre peggio io ho smesso di comprare tutte le uscite Panini proprio perché mi sono ribellato a questo comportamento assurdo e rispettoso verso i lettori che da anni hanno acquistato i fumetti e hanno arricchito le tasche dei loro direttori coordinatori e editori basta vedere la bella vita che fanno sempre in vacanza e in giro per il mondo dice Filippo Bardi anche grazie ai ricchi stipendi che gli hanno fatto avere in passati suddetti lettori ho deciso di comprare solo gli X-Men e tutto ciò che riguarda questo gruppo mutante un po' con la mia fumetteria di fiducia leggiamo anche qualche commento sulla pagina della Planet ma è possibile che su nove copie dell'artbook di Slam Dunk che dovevano arrivare in fumetteria ne sono arrivate tre e la sua fumetteria ne ha anche ricevute parecchie ma che problemi avete con le stampe io non ho parole l'appellativo di peggior casa editrice non ve lo toglierete mai dice Davide Scuderi Gerardo Alfano ho ordinato l'artbook di Slam Dunk nella mia fumetteria e oggi scopro che delle dieci copie ordinate ne saranno consegnate solo quattro ma stiamo scherzando? cioè dieci persone hanno fatto il preorder e voi ne inviate quattro ma che modo è? avete messo il fumettaro nella condizione di scegliere tra dieci persone molte hanno ordinato lo stesso giorno appena uscita anteprima volete sempre più clienti ma fate delle cose pessime e la gente prima o poi se ne accorgerà Gabriele Murro fatemi capire ordino dal mio fumettaro Slam Dunk il giorno del lancio ed oggi scopro che non lo potrò avere perché il rifornitore Pan non ha le copie spero sia uno scherzo io ho ordinato la mia copia e ora la voglio ritengo che non risponderà o rimbalzerà la copia di distributore lasciando comunque insoddisfatte sia le fumetterie sia i clienti bravissimi Michele Polo spero vivamente sia uno scherzo ordino a giugno nel primo giorno utile Slam Dunk Illustration in 5 copie e oggi scopro che non saranno evase con i clienti che lo hanno già pagato di cosa stiamo parlando ho un'attività commerciale da 20 anni e vi permettete di prendere in giro così la clientela pretendo delle scuse formali verso tutte le fumetterie e i clienti ma anche che troviate una soluzione nel weekend purtroppo non ci sarà nessuna soluzione non ci sarà nessuna soluzione assolutamente si riro si si per l'ultima cosa che hanno fatto praticamente l'ultima stronzata ovvero quella dell'artbook la cosa che mi fa più errore della panina è che non ha riguardi per nuovi lettori che vogliono buttarsi su titoli più maturi come ad esempio l'opera di Orasawa di cui molte serie non si trovano più io di Tezuka vorrei tantissimo Blackjack inizierà per la Osamushi Collection a ottobre novembre dicembre entro la fine dell'anno credo panini è una ladrona anche sul lato Marvel visto che gli spillati di 48 pagine le fanno pagare 5 euro e poi ti fanno i 56 pagine a 6 euro 8 pagine in più le paghi un euro e poi ti fanno 40 pagine sempre 5 euro sì per non parlare tipo delle tartarughe ninja che costa 8 euro per quante cazzo sono 30 pagine ma la motivazione di fare solo 500 copie non ce n'è non c'è nessuna motivazione valida nessuno ti troverà mai una motivazione valida monchi di maurizio non c'è assolutamente una motivazione valida perché ripeto Slamdark è uno dei manga più amati di sempre non è un manga di nicchia quindi tranquillamente ne avrebbero vendute 3-4 mila copie minimo perché hanno evidenti problemi mentali dice Zef mi dispiace perché di base planet porta della roba interessante quello sicuramente in sector però la politica commerciale è totalmente assurda Chirion mi ributti il link amazon di quella francese che così preordino si questo è il link se volete acquistare l'edizione francese che ha solamente quelle 5 righe di testo in francese che tradurremo appena mi arriva le traduco direttamente io e ve le butto su instagram su facebook su youtube dovunque i prezzi degli spillati sono ridicoli sì l'unica differenza con quella francese è che forse è brossurata invece che cartonata e non so se avrà la magnifica esclusiva cartolina di cui ce ne sbattiamo i coglioni direi è completamente inutile quindi chi se ne fotte se c'è o no la cartolina direi nessuno chiaramente 4 giorni fa hanno risposto a questa cosa salve mi chiedevo se porterete mai in italia il manga di comic and communicate e loro il suggerimento è già stato girato alla redazione praticamente mentre l'hanno scritto l'ha annunciato jpop non sanno neanche quello che hanno preso quello che è disponibile cioè sono assurdi che è l'unica cosa che rispondono loro la richiesta è stata girata in redazione non rispondono altro non c'è nient'altro poi su sull'artbook di slam dunk anche perché comunque in teoria è uscito tra virgolette ieri o l'altro ieri che assurdità la loro sufficienza nelle risposte è insopportabile esatto c'è una data per quella francese ma a me quando ho fatto il pre-order Zef mi diceva novembre tra l'altro facendo il pre-order adesso se se dovesse abbassare di prezzo su Amazon ve lo mandano al prezzo più basso a me sembra più una presa in giro esatto assolutamente quanto mi dà fastidio quella politica di Planet perché ad oggi mi rende impossibile recuperare in maniera umana le opere di Cica o meno tra le altre tutte le loro risposte sembrano una provocazione sì assolutamente eh ragazzi è così è assurdo purtroppo vorrei sapere chi quale ha il rapporto con il pubblico uno che sicuramente non ha studiato comunicazione Bruna quello è poco ma sicuro assolutamente perché se no non cioè non risponderebbe così panini di mail ma vorrei tanto leggere l'immortale ma Dio santo la nuova edizione è oscena comic art ma anche mamma mia la nuova edizione dell'immortale io non so veramente come abbiano potuto fare una oscenità del genere sì Paolo per il rapporto qualità prezzo è oscena non è oscena di per sé se costasse se costasse 7 euro non sarebbe oscena costando le 15 è oscena tre quarti delle opere planet non le recuperi se non le prendi subito esatto ho controllato Amazon e dice che arriva il 17 novembre esatto sì c'era scritto a novembre infatti quell'edizione francese che vi ripeto è questa qui benvenuto Silver Champagne benvenuto nel clan panini panini tiene di nostaggio le opere non hanno voluto fare la perfect edition di full metal alchemist dice race of rage giustamente perché sarebbe costata troppo e poi ti fanno i volumi di Akira a 22 euro sì anche quelli di non warfare cab a 22 euro a 66 euro a cofanetto mei coglioni sotto il post di quattro giorni fa su slam dunk ci sono dei commenti che riguardano l'artbook dice furretto illuminista vediamo un po' se me li fa vedere perché io sono bannato quindi non so se mi fa vedere i commenti al post allora ah questo vediamo tutti ok l'artbook di slam dunk ci pensa visto che molti fumetterili hanno ordinato e non l'avranno non sai perché e hanno avuto questa grandissima e genialata di fare solamente 500 copie per tutta l'Italia praticamente una fumetteria se va bene che grandi no le fumetterie non sono di più ma sono di meno Carlo Valerio Pompei le fumetterie italiane saranno 2-300 nemmeno con quale chiteria vengono spedite si va a culo a me ha detto che prima delle ferie ne avevano garantite 7 copie ieri confermate 3 un altro negozio su 15 ordinate se ne sarebbe aspettate 4-5 invece 2 totalmente a caso totalmente a caso ma l'artbook disegna anche fino a fatto dice simone angilletta sono i soliti la peggior casellettrice da 20 anni concordo Mitsui penserà anche all'artbook che ho prenotato per tempo e non avrò a causa dell'incompetenza di Planet Manga assurdo si anche il cofanetto di pet 9,90€ a volume per quegli effetti di merda che ci mettono che nessuno vuole ma ne avevano 500 e ne hanno garantite 5000 come li hanno fatti i conti col culo come sempre c'è stata un'organizzazione di merda come si fa a mettere disponibile a tutte le fumette d'Italia l'artbook sapendo che ci sono 500 copie e basta esatto per fortuna che la perfect di full metal alchemist non si poteva fare perché sarebbe costata troppo esatto pet sembra interessante ma non lo comprerò mai assolutamente piuttosto me lo leggo in scan denunciatemi ma chi gliela ha chiesto la metallizzazione olografica 3d in realtà aumentata esatto con la magnifica spugnatura d'esta ceppa de minchia grazie per il follow I'm a book in the air I'm a book in air grazie del follow e benvenuto nel clan compra tutto te Paolo Sculli dice Rira ricordiamo tutti di Nanuto Color sì ma se stiamo a elencare le cappellate della planet non finiamo neanche in una maratona di una settimana pet lo leggerò in scan e poi mi recupero i volumi in giapponese su qualche sito in inglese così risparmio bravo race of race stiamo abbastanza inguaiati spirit wonder star planet che scamba e specula star comics che ha i volumi che si sfasciano in mano purtroppo alcuni sì è vero soprattutto per la merdosa edizione di uscio e tora e la goyen che non pubblica nulla spugnatura utilissima aposims con i retini corretti a 50 centesimi in più esatto in sector ma guarda non ho capito se pet sarà solo con cofanetto o no perché non non si capiva bene dall'anteprima lo squalificato only one a 25 euro con la costina che si sfascia completamente tra l'altro e io guardate non è che cioè dico queste cose con la massima onestà intellettuale possibile perché a me il l'omnibus che diceva anafro kiwi from italy ovvero no il lumicazzo lo squalificato me l'hanno mandato gratuitamente quelli della panini cioè mi hanno mandato la copia stampa quindi ragazzi se cercate l'onestà intellettuale con me la trovate tranquillamente non ho problemi a parlare male di nessuno quando se lo merita ed è questo qui questo qui cioè a me me l'hanno mandato gratuitamente come copia stampa ma io non dico che è una bella edizione perché è una merda guardate la costina e io li apro pianissimo i manga io li apro veramente in modo che che non si rovinino cioè il più leggerissimamente possibile guardate questa riga bianca qui questa è la spaccatura della costina e vi ho detto tutto il manga è bellissimo assolutamente manco 20 euro doveva costare esatto l'omenibus di planetes non dovrebbe essere male io preferisco comunque alla grande l'edizione in tre volumi dello squalificato assolutamente comunque ragazzi non ci siamo non ci siamo proprio per un cazzo non ci siamo per niente omnibus planetes però 45 euro esatto blue virus cioè se fosse stata di merda anche quella sarebbe stata veramente tanta roba comunque ragazzuoli io mi vado a preparare che tra poco entro al lavoro cerco di fare una partitina a zelda prima per rilassare un attimo la testa e noi ci vediamo chiaramente nelle prossime live magari domani facciamo una live più tranquilla un po' di cazzeggio e adesso vi faccio un raidino al nostro amico Tommaso in Giappone quindi andatemelo a salutare noi ci vediamo sempre su youtube sul gruppo telegram per chi vorrà abbonarsi anche con 30% di sconto questo mese e sulle prossime live grazie mille a tutti un bacione dal vostro Chirio e ciao